... Bene, eccoli, un applauso alle spalle upper 11 di Uetus e Samporia che giocano per giudicarsi il terzo e quarto posto del Lugano Champions Trophy. Gioca in caso la Juve. Marturano desiderato a Buffett. Grazie. 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 a Sampdoria pronto? pronto? sul pallone numero 5 Paccini si c'è un pallone domani sono lì domani sono lì ah va bene Paccini sblocca il risultato per la Sampdoria Calcio ci chiamo dopo dai ci siamo andati senza 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 a sempre i i i i i i i i i Goal del pareggio di Merola Dopo uno bel scambio con il numero 8 Dai forza Doria Grazie 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 Squadra in campo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.